L'idea di questo appuntamento, che abbiamo voluto chiamare Sliding Doors, è nata dalla constatazione che spesso quando ci troviamo fra colleghi o fra componenti del team riabilitativo l'argomento principale di conversazione è proprio il racconto dei casi clinici che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni nella nostra attività quotidiana, delle difficoltà, dei problemi, delle soluzioni che siamo portati ad adottare e dal fatto che molte volte le storie dei nostri pazienti prendono delle direzioni, l'una o l'altra direzione appunto come nel film Sliding Doors, a seconda di diversi fattori non sempre legati alla malattia, non sempre legati ad una problematica clinica, ma anche a come la persona, il paziente vive la sua situazione, a come noi ci comportiamo nei suoi confronti, a quali sono le condizioni esterne nelle quali la nostra attività si svolge. Ed è per questo che probabilmente questo primo esperimento che avete potuto vedere con la prima puntata nei nostri social media è stato apprezzato ed è stato visto e commentato da molti colleghi. Quindi intendiamo andare avanti con questa esperienza, fra poco uscirà la seconda puntata di questo racconto Sliding Doors in cui ci sono ancora due alternative possibili della storia clinica e quindi vi invitiamo a contribuire con le vostre riflessioni, pensieri, commenti anche critici perché pensiamo che questo sia un buon modo di condividere e di crescere dal punto di vista professionale e delle relazioni fra di noi. Quindi a presto con la seconda puntata di Sliding Doors. Grazie a tutti.